Famosa per i suoi capricci da star, Adele stavolta sembra oltrepassare un limito Ci sarà un medico tra lei e il suo stato Proprio così Per paura di ammalarsi, infatti, la cantante vuole ingaggiare un dottore che avrà il compito di valutare lo stato fisico di tutti ogni settimana Le sue preoccupazioni sulle conduzioni di salute sono diventate una vera e propria ossessione e solo chi farà bene potrà avvicinarsi alla storia Ad agosto Adele è stata costritta ad annullare un concerto a Phoenix, in Arizona, dopo aver preso l'influenza e non vuole ricaderci A chi starà bene viene dato una sorta di lascia passare per interagire con la cantante Gli altri dovranno...